Il decreto attuativo della delega fiscale in materia di accertamento è in vigore dal 22 febbraio 2024, giorno successivo a quello della pubblicazione in gazzetta ufficiale, tuttavia per consentire agli uffici di recepire le novità ed adeguarsi alla nuova geometria variabile di rapporti con i contribuenti sottoposti al controllo, le nuove norme si applicano con riferimento agli atti emessi da 30 aprile 2024.